È uno di quegli eventi che arrivano inaspettati, cioè una famiglia che per noi è una famiglia che conduce la propria vita nella normalità, con due bambini, in un quartiere tranquillo e improvvisamente si ha notizia di un fatto così grave. È chiaro che sconvolge e porta a tanti interrogativi e quello che noi possiamo fare è esprimere tutta la nostra vicinanza e presenza a questa donna, ai suoi bambini, a tutta la famiglia che è stata coinvolta. Ecco, c'è un numero nazionale, il 1522, ma noi abbiamo anche uno sportello antiviolenza annuale che opera per tutto il miranese, che è attivo 5 giorni su 5, il riferimento sono i nostri servizi sociali e danno un supporto completo, dal sostegno psicologico a quello legale e a quello nel caso estremo anche degli alloggi in sicurezza e in protezione.